Tutto pronto in quel divarano per il quarto appuntamento della Sound of Thunder 1000 Il Polman, Michael Lamagni, con a suo fianco Lorenzo Renaudo e Giampaolo Cristini a chiudere la prima fila In seconda fila, Palladino, Lobartolo e Bartolini Terza fila, remoto, Crosetti, Buccelli, Malfatto, Gipponi e Secchia Chiudere quella cannaveria di partenza che si pronuncia infuocata per una delle gare più interessanti Al meglio di 13 giri del 1350 metri di intercorrenza E' il penultimo appuntamento Prima di Cremona, Lamagni vuole vincere per consolidare il primato A tra poco Partita, partita La Sound of Thunder 1000 con un Lamagni che non riesce ad avere un ottimo spunto Per lo meno è una fase iniziale Si fa in fila e si trova in seconda posizione Non è una grande partenza Neanche da parte di Giampaolo Cristini Che cerca di rinvenire sempre Per quanto riguarda le posizioni di testa Non si trova Lamagni, anzi Cristini è secondo E c'è Lorenzo Renaudo Che si mette davanti e prova Da un certo punto di vista A fare lui il ritmo Un ritmo che sarà importantissimo Con un Lamagni che si trova addirittura impelagato In una situazione complicata con Cristini Che cerca di prendergli la posizione Allora prova da subito Ad approfittarne Lorenzo Renaudo Che cerca col suo motone di andarsene E poi vediamo via via Scorrere tutti quanti gli altri piloti Con abbiamo visto Palladino Lobartolo Encoo Renaudo che sta andando a completare Il curvone Quello che mette prima Della chicane Che ci regalerà Il primo giro completato Da parte di Lorenzo Renaudo Con un Lamagni che però sta già iniziando A cercare di avvicinarsi Staccando Giampaolo Cristini E creando un bel frastagliamento Tra sé E il gruppo dei terzi Che tra poco potrebbe andare a compattarsi Mentre dietro è bagarre totale Tra secchi, gipponi e malfatto Passa Renaudo Primo giro Completato Alle spalle Maicon Lamagni È una gara Che mi sembra abbastanza Dinoccolata Da questo punto di vista Anche perché c'è stato un inizio Particolare Con un ottimo Avvio da parte di Renaudo Che ha preso la testa Lamagni ha dovuto a un certo punto Addirittura cercare Di dover far fronte Al buon Cristini Qui una staccata da paura Da parte di Lamagni Che lo avvicina tantissimo A Renaudo E allora attenzione Perché Lamagni Ce l'ha fatto capire Nella prima gara a Varana Fece una non partenza Un lungo E una caduta Incredibile Mentre Lamagni È vicinissimo adesso a Renaudo Si è praticamente francobollato a lui E vi dicevo Varana è un circuito Che non evoca un grande ricordo Lamagni Perché nel primo weekend Per quanto riguarda i MES Fece una partenza disastrosa Si impiantò In mezzo alla pista E addirittura Balzò in ultima posizione Facendo una grande rimonta Prendendosi poi comunque Le posizioni di testa Non il podio Neanche il quarto posto Ma Riuscì a completare Una gara importante E poi da lì Un'escalation di grandi vittorie Grandi successi Con Lamagni Che è sempre dietro a Renaudo Con Renaudo che fa il ritmo Una Magni Che adesso si sta avvicinando Sempre di più È una situazione A livello di gara Che si sta davvero Cristalizzando Con Cristini Che riesce a tenere Un ottimo passo Un passo che non gli permette Di stare Vicino a Renaudo E a Lamagni Ma un passo che Gli consente di tenere A debita A debitissima Distanza Un gruppetto Lo vediamo Spiccare Con una super staccata Si mette in quinta Bartolini Quarto Come dicevamo prima Il buon Palladino Sestolo Bartolo Che forse sta anche un po' Studiando gli avversari Anche perché tra poco È terzo passaggio E effettivamente così Terzo passaggio Adesso Lamagni È vicinissimo Adesso Lamagni Potrebbe già iniziare a studiare Un tentativo di sorpasso Non lo fa Da questo punto di vista In questa circostanza Perché vanno ad affrontare La doppia curva Prima che Immette nel Contro rettilineo Con Lamagni Che studia Una traiettoria diversa Anche per pinzare più forte Si avvicina tantissimo Ha guadagnato Ulteriori tre decimi In quest'ultimo giro Su Renaudo Il segno che probabilmente Se Lamagni passa Poi ha un ritmo Decisamente diverso Resto a quello di Renaudo Che sta facendo di tutto Per contenerlo Per bloccarlo Per asfissiarlo Cosa che sta Chiaramente controfacendo Il buon Michael Lamagni Che non sta Non si sta dando per vinto Sta continuando a Girare in maniera Oculate In maniera importante In maniera sapiente E forse per la prima volta Lo vedo Molto 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 lucido Di solito lui è molto diretto Molto istintivo Sta cercando davvero Di studiare Nella maniera migliore Nella maniera Più interessante La linea di sorpasso Su Michael Della parte di Michael Lamagni Su Lorenzo Renaudo Che poi potrebbe anche avvenire a breve Noi questo non lo sappiamo Non ci è dato sapere Eccoli qua Intanto In lotta dietro Boccelli Per una posizione Dall'ottava alla decima C'è anche Max Boccelli Che sta provando A forzare Intanto salgono su Tutte le moto Con un tentativo Eccolo qua Boccelli tra l'altro Ha ultimato Il sorpasso Su suo diretto Contendente Passano via via un po' Tutti quanti i piloti Quando si Chiude Anche il quarto giro Stanno andando a ritmi Decisamente elevati I piloti di testa Anche i piloti dietro Stanno cercando un po' Di tenersi In linea di galleggiamento Con quelli che sono Gli obiettivi Con quelli che sono Le volontà Da parte dei piloti Mamma mia Qua si è sfiorato Quasi un dritto Alle spalle Con Boccelli Che sta cercando Di forzare il terreno Sul diretto Contendente Sul diretto avversario A testa della gara È sempre guidata Da quei due Renato Lamagni Lo ripeto Cristini in terza posizione E poi quel gruppetto Dalla quarta Alla sesta posizione Che sta Combattendo Con Gipponi Che sta tenendo Dietro Boccelli Con Lamagni Che è tenuto dietro A sua volta da Renato Altro passaggio Ancora Renato davanti Io penso che però Tra poco Lamagni Voglia sferrare il colpo Per poi provare ad andarsene Anche perché tra poco Siamo a metà gara E allora Occhio che potrebbe già essere Adesso il momento Lamagni Lo studia proprio In ingresso di curva 1 Poi lo lascia passare Ed è come se Lo volesse indurre lui All'errore Senza voler forzare Lamagni Forse adesso ci siamo Eccolo qui Staccata di Lamagni No Non è ancora arrivato il momento Lamagni si accoda Renato resiste Ma sembra davvero Arrivato È questione di secondi Di attimi Di istanti Il tentativo di sorbastro Di Michael Lamagni Che ancora si accoda Si accoppia E allora gli si mette la vicina E allora ancora dietro Vedo il sagomone Di Giampaolo Cristini Che sta facendo una gara Estremamente Dura Estremamente forte Nei viste precedenza Quella battaglia Gipponi Buccelli Per la nonna posizione Mentre qui ancora Se le danno di santa ragione Continuano a studiarsi Continuano a fare Praticamente Adesso si è molto avvicinato Lamagni Nel tentativo di fare Praticamente le stesse traiettorie Da parte di Renato E allora vediamo se Adesso in uscita Dalla Cican Per poi il rettilineo Iniziare a pensare Del sorpasso Da parte di Lamagni Ancora forse non è arrivato il momento Forse sì Forse no Lo scopriamo tra poco No Ancora no Pinza più forte Renato E allora riesce a chiudere In maniera importante la curva Si mette forte sotto Col motone Renato E Lamagni Sta diventando davvero Un duopolio Lo è sempre stato E anche dall'inizio della stagione Sono loro due I principali contendenti Alla vittoria finale Della Sound of Thunder 1000 Eccolo qui Lamagni è uscito Molto più forte questa volta Però attenzione Perché potrebbe chiudersi Il sorpasso Sì È arrivato il sorpasso Di Michael Lamagni A metà del sesto giro Quasi un po' come se l'avessi studiato Come per dire Tu ti fai metà gara davanti Io mi faccio l'altra metà Però adesso Si pone un grosso problema Per Renato E se Lamagni Ne ha molto di più Questo può diventare davvero Un indizio E un quesito importantissimo Che potremmo già risolvere A stretto giro di posta Perché se poi Lamagni scappa Allora vuol dire che Ha fatto un po' La Volpe Ha fatto un po' The Fox Michael Lamagni È stato dietro L'ha aspettato Ha capito Quale fosse il luogo Il punto più strategico Per passarlo L'ho passato Adesso vediamo Se prova ad andarsene Ancora ad ora Non ha guadagnato tantissimo Siamo nell'ordine di distanza Dei due decimi Non posso guardare Chiaramente il monitor dei tempi O meglio lo posso fare Ma è appena avvenuto Un sorpasso Ed è normale Che ci sia Un passo gara più veloce Occhio però Perché già qui Nel primo intertempo Guadagna due decimi secchi Ci troviamo A 350 millesimi Allora Lamagni Forse aveva Qualcosa in più Rispetto Al buon Reinaudo Vediamo in questa fase Dove non è più Una fase di studio Perché hanno rotto Gli indugi Ma Reinaudo Mi sembra che comunque In qualche maniera Sta provando a tenere E deve farlo più che altro Per il titolo Di campione Sound of Thunder 1000 Che poi verrà sancito Decretato Scolpito Sulla pietra Nel weekend Prossimo Il 23-24 settembre Laddove Si dovranno davvero Tirare Le righe E soprattutto Un Michael Lamagni Straordinario Perché non aveva avuto Una grande partenza Lo ripeto e lo ribadisco Con il primo Con la prima gara A Varano Dove fece quell'errore Forse Complici anche un po' L'emozione Fu bloccato Totalmente Paralizzato In partenza Lo scavalcarono Praticamente Tutti i piloti in pista Lui fece una grande rimonta Perché fu una grande rimonta Ma non era chiaramente soddisfatto E effettivamente Non aveva Tutti i torti Visto che La sua moto Per ora si sta dimostrando Davvero infallibile E lo sta facendo Anche questo a Giavarano Sei giri Alle spalle Di Renaudo Con una pazienza Davvero Importante E una tattica Interessantissima Una strategia Interessante Aspettare E colpire Ed effettivamente È andata così Per adesso Perché sta per ultimare Un altro giro Renaudo Mentre le telecamere Tornano Sulla sfida Gipponi Boccelli E veramente Boccelli In tutte le maniere Sta provando a passare Super Cristian Gipponi Che partiva dall'undicesima Ragazzi Non ci riesce È un super Gipponi Che sta continuando In qualche maniera A calamitare Su di sé Le attenzioni Di Boccelli E chissà che non si riproponga Una sfida Simile a quella Di quei due davanti Renaudo Lamagni Tra poco Tra l'altro Le telecamere Indugeranno Sul gruppo di testa Non è molto inquadrato Giampa Cristini Anche perché sta facendo Una gara Pazzesca In terza posizione Ha dei tempi Chiaramente Più bassi Ma non così Più bassi Rispetto ai piloti Di testa Sta tenendo Alle spalle In maniera Molto importante Palladino Lobartolo E Bartolini E Chiaramente Adesso qui È una sfida Nella sfida Per quanto riguarda Posizioni Un po' più in basso Ma Posizioni che stanno Regalando Un sorriso A questi due piloti Gipponi E il buon Boccelli Non molla Boccelli Ragazzi Ci prova in tutte le maniere Uno dei veterani Del paddock Del circuit Dei mess Lo ripeto Lo ripetisco 23-24 settembre Ultima Tappa In quel di Cremona Cremona circuit Varano E dove è iniziato Cremona circuit Dove Termina L'appuntamento Boccelli esterno Forse va No Lungo di Boccelli Lungo di Boccelli Allora a questo punto Può andare Gipponi E tenersi la posizione Con Boccelli Che ha perso Tantissimo E chissà Che non ne abbia Per provare Quella che è la rimonta Finale da parte sua Per quanto riguarda Una gara Che sta vedendo Chiaramente davanti Super Michael Lamagni Dominare In contrastata La gara E alle spalle Un Reinaudo Che sta provando A tenere Il passo Il ritmo E un Gipponi Come stiamo vedendo Con il monitor Le telecamere Che lo stanno inquadrando Tenere alle spalle Boccelli Boccelli che prima Ha avuto un passo falso Perché ha avuto un lungo In curva 1 Quel lungo Gli è costato Sicuramente Diversi secondi E chissà Che questi secondi Non possano Chiaramente Aver compromesso La gara Su Gipponi Mentre la telecamera Indugia chiaramente Su Christian Gipponi Che sta ultimando Un altro giro Mentre davanti Se ne vanno via La Magna e Renaudo E il punto è che sono out Diversi altri piloti Di cui tra poco Vi daremo Chiaramente Il beneficio Il confronto Per andare Anche un po' A capire Come si stanno Dinoccolando Andando a calmirare Tutti quante Tutti i piloti Eccolo qua Michael Lamagni Che ha staccato Decisamente Renaudo Non ne ha più Forse le gomme Forse la stanchezza Ma Accusa Un distacco Un gap Clamoroso Lorenzo Renaudo Abbiamo visto In precedenza Passare Michael Lamagni Eccolo qui Michael Lamagni Mamma mia Renaudo Un distacco Di 2 secondi 8 Che è andato Via via Allargandosi Una forbice Sempre più larga Tra poco Dovrebbe passare Anche Cristini Eccolo qui Giampaolo Cristini Passare con la sua moto E ormai siamo arrivati Agli sgoccioli Di quella che è stata Una gara Dal settimo giro In poi A senso unico Ma in precedenza C'è stata E come se c'è stata Gara Anche perché ripeto Lamagni ha aspettato Ha avuto una tattica Decisamente diversa Michael Lamagni Ha voluto aspettare Ha voluto non forzare Ha voluto essere Come diciamo Un po' più sagace Anche perché era stato qui Che aveva fatto un errore Grave Lo ripeto Non ripetisco Alla prima tornata Al primo Trofeo E adesso ha deciso E che non potesse fare Molto altro Super Giampaolo Cristini Terzo Purtroppo Non arrivano a podio Palladino Lobartolo E Bartolini Che hanno avuto Problemi Con le loro rispettive moto Arrivano chiaramente Poi con calma Tutti gli altri Piloti Remoto Finisce qua Vince Lamagni Secondo Renato Terzo Cristini